Verso la macchina McGrace e l'Ana del Rio, si ritrae dall'ala italiano al pari di Locomotion OM, l'Ana lungo la corda, all'esterno lo scatto di Mondiale OK. Mondiale OK scavalca l'Ana del Rio in terza posizione, McGrace SM in quarta McBeth B in quinta Locomotion OM in piegata. Mondiale OK leader avanti all'Ana del Rio, Mondiale OK passi strada, l'Ana del Rio subito proiettata a largo, 12.2 il lancio alla media di 1.01, l'Ana del Rio a lato di Mondiale OK, sta passando l'Ana del Rio, uscita dalla piegata, l'Ana del Rio ha preso il comando delle operazioni, scavalcando Mondiale OK in terza posizione, rimane McGrace SM in quarta McBeth B. 27.6 il quarto iniziale, l'Ana del Rio batti strada avanti a Mondiale OK, poi McGrace SM, risale Locomotion OM che va a lato di McBeth B, trascinandosi Julius del Ronco nella cuscita, l'Aberto Pecchione, proietta, Clebene RL, intanto cavalli sulla piegata con l'Ana del Rio al comando in seconda posizione Mondiale OK, terzo all'esterno, Locomotion OM, secondo quarto lento in 32.6, 1.002, gli 800 alla media di 1.15.3, si sta riproponendo il cliché dello scorso anno, primo chilometro lento e poi 600 a correre, si arriva al chilometro di 1.14.8 lo scorso anno, era 15.1. l'Ana del Rio in vantaggio, Mondiale OK in seconda posizione, terzo all'esterno, Locomotion OM, quarto in cuori Julius del Ronco con all'interno McGrace SM, poi McBeth B e Leben RL, cavalli sulla piegata, con l'Ana del Rio in vantaggio nella sua scia, sempre Mondiale OK con a lato, Locomotion OM, 28.4, il quarto, ingresso addirittura, l'Ana avanti a Mondiale, poi Locomotion OM, l'Ana avanti a Locomotion OM, Mondiale, poi McGrace SM, l'Ana del Rio avanti a Mondiale OK che prova al suo interno, allargo lo scatto di Locomotion OM, l'Ana su Mondiale, l'Ana mondiale, Locomotion, vince ma trema, l'Ana del Rio, 27.6, il quarto conclusivo, prossimamente il ruolo dovrà essere si deve usare di più per provare a battere l'Ana del Rio, questa volta un po' ci hanno provato ma alla fine l'Ana comunque dall'alto di una classe superiore conclude a media di 1.12.6, esattamente come un anno fa, 1.56.2 il tempo totale, lasciata tranquilla per il primo chilometro sotto intorno al 15, esattamente come lo scorso anno, a corso gli ultimi 600.